E bella tutti gli allenatori, sono Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Bomberoni ma guardate che clima, veramente un calore assurdo! Infatti sono in giro con la maglietta del GO Fest, addirittura speriamo infatti che oggi ci porti fortuna! E allora bomberoni, oggi primo weekend del mese di aprile, diamogli il benvenuto! E come mai? Ho qui la schermata praticamente del sito viola che mi stavo guardando ragazzoli, la live di Pokémon GO a Londra, praticamente che ci sono cosa? Sono i mondiali! O campionati europei dovrei dire, anche perché l'ho letto qua nel titolino raga, giorno 2, Il day one era ieri, ma allenatori, attenzione perché andiamo a riscattare un codice promozionale! Che solamente facendo questo sistema qua possiamo riscattare questa missione! Praticamente allenatori dobbiamo collegare il nostro account del sito viola a Pokémon GO per andare a riscattarci il drop! Infatti allenatori, guardatelo qua, io sono già qui, vi mostro semmai! Siamo sul nostro profilo, infatti andiamo su drop allenatori ed eccolo qui! L'abbiamo già qui in avanzamento, infatti che dobbiamo praticamente guardare ragazzoli, Possiamo anche lasciarlo lì così, la live qui dei campionati a Londra per ben 30 minuti allenatori! E poi vi si sblocca in automatico, infatti vedete che a me adesso si è giunto sotto, riscuoti subito! Mentre se clicco qua, boh, dei dettagli, infatti 100% ok, riscatta subito! Vediamo allenatori, cosa succede? Cosa succede? Io ho riscattato, ma dovrebbe già essere andato? No, lo so allenatori, non sono ancora entrato all'interno del game, Magari entrando dentro che ci mostra una schermata, non ne ho idea, proviamo! Ammazza che caldo raga, mi metto un attimo all'ombra! Allora, sto entrando in questo momento come potete vedere in game, Allora, allora, allora abbiamo Wildmer, vabbè, ma magari dovrebbe uscire sopra ragazzoli Che abbiamo riscattato un'offerta, un'offerta, un codice promozionale, Ma non vedo niente, non vedo una cipa, proviamo a entrare qua a vedere se c'è qualcosa, c'è qualcosa, Non vedo una cipa di niente raga! Raga, qui su 7 account all'incirca 3-4 shiny, attenzione, andiamo a vedere anche noi, Non penso, non penso perché corre, poi è una roba incredibile, 1 minuto e 55 secondi, primo ride di Entei Ombra, dai allenatori, Ma tipo arriva, tipo arriva, dice a noi 43, normalissimo! Allora Bombers, abbiamo fatto vari ride, ma come potete vedere, Prima di andare a vedere gli Entei, guardate qua, super mega scambio fortunato garantito, Raga, guardate qui che bellezza di Pokémon abbiamo fatto, cioè di Aiga, Non quello normale, possiamo dire, ma l'Origin, mi pare che si chiama Origin, Questa forma qua, l'ultima almeno entrata in game, con la modalità, l'effetto, avventura raga, Che distorce il tempo veramente fenomenale, shiny, chiaramente, Eccolo qua che infatti siamo andati a fare lo scambio a specchio, Guardate qua che bellezza, allenatori, poi 800, solamente 800 di polvere di stella per effettuare lo scambio, Perché chiaramente siamo a quattro cuori, eccetera, Pam, allenatori, guardate qua, è allenatori e un gameplay, È chiaramente un gameplay di prima, l'abbiamo effettuato tra un ride di Entei e l'altro, Guardate, 2901, pontilotta, ragazzi, Chi di voi conosce già più o meno le percentuali, le statistiche del Pokémon, Sa quanto l'ho trovato, e infatti, allenatori, guardate qua, valutazione, Boom, 96%, shiny di Aiga bellissimo, 96%, Cosa chiedere di meglio, raga, abbiamo anche inoltre, Il di Aiga così normale, 100%, Ma allora, allenatori, prima di andare a inserire il codice promozionale, Che sono curiosissimo di vedere cosa ci butta fuori della missioncina, Attenzione qua, abbiamo un Joltik, Joltik, Ah, ragazzuoli, devo mostrarvi anche, Perché ieri praticamente sono venuto a Milano, Sono stato a Milano, ragazzuoli, insieme all'Amorosa, Chi di voi mi segue su Instagram, sicuramente ha già intravisto qualcosina, Abbiamo fatto questa giornata in quel di Milano, E ho trovato roba, shiny, pazzeschi, raga, pazzeschi, Ma allora, 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 qua, missioncina, Wimpod, shiny check, Wimpod, normale, Cattura rapida, let's go, andata, Sì, molto bene, ancora dai Wimpodini qui, Vediamo se giriamo questo, raga, Perché sono a cacissima di Wimpod, Che non mi vuole uscire, allenatori, Voi l'avete trovato, fatemi sapere se avete trovato questo nuovo shiny, Qua intanto un Mantine enorme, Che non vado a catturarlo, ma vediamo, vediamo qua, Spero, che si muova uno scogliattolo, Di non trovare, Oh, che ciapp, che ho cliccato, Il po' che sto, raga, non volevo, non volevo, Giriamoci qua, molto bene, Ceklion, Ceklion, porca miseria, Normale, normale, 81 punti, lotta, E apprezzerei, raga, di trovare shiny Ceklion, Qua sul mio account primario, Per andare a scambiarlo, perché è ottimissima merce di scambio, Porca vacca, Ceklion, però, però, No, il Wimer qui volevo cliccare, Ecco qua, infatti, non è shiny, Ma andiamo a vedere, no, la butto, raga, La butto questa missioncina qua, Non mi interessa, non mi interessa, Dopo farò un altro giretto, Se mai in giù di là, questa qua l'ho già presa prima, Già completata anche la missione, Ma vediamo allora di qua, questa qua completata, raga, Che poi ce la possiamo raccimolare, Anche qua, piccoli e grandi, L'ambaradan, ma, io mi prenderei, dai, raga, Qua prendiamoci tutto, perché sono a tempo, Non vorrei che va a scadere, Non ho messo né pezzo stella, né fortu nuovo, Attenzione, Wimpod, dai, Catturato molto bene, Che poi allora ce l'abbiamo, Vediamo se è ancora Wimpod, Allenatori, qua sopra, Che almeno possiamo prenderci due missioni, Quindi questa qua sotto, completata, L'altra, dai, 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 Wimpod, dai, Wimpod, Che è bellissimo, ragazzolo, Puoi effettuare Golisopod, Shiny, Ah qua è Wildmer, Per fortuna, Quindi abbiamo completato anche la missione, Eh sì, una missioncina, Dai, 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 Shiny, Wimpod in, Catturiamolo, Almeno possiamo prenderci anche l'ultima, Raga, dai, Dai, Wimpod, Dai, Arancionino, Lì, come cacchio, Schifezza, raga, Che schifezza, Ma vediamo, Io comunque sono ancora dentro il gruppo, Cioè, magari vediamo gli altri allenatori, Che sono in giro, Perché, Facendo il party play, Raga, La modalità in gruppo, Diciamo che quando ci stacchiamo, Dal nostro gruppo, Qua li vediamo ancora, Raga, Nella schermata della mappa, Una roba bellissima, Allora, Allora qui abbiamo completato, Mi sembra proprio di sì, Molto bene, Ma, Facciamo così, Allenatori, Voglio mostrare, Guardate qua, Attenzione, Se facciamo 4 e asterisco, Cioè i miei 100%, Guardate, Allenatori, Wimpod, Abbiamo registrato Wimpod, 100%, Peccato, Che è normale, Non sciundo, Azzarola, Eccolo qua, Trovato a Milano, Appunto, Allenatori, Come vi ho detto, Che siamo stati, Trovato, Catturato durante una ricerca speciale sul campo, Quindi da missione, L'abbiamo catturato molto bene, Mentre per quanto riguarda Entei, Io farei addirittura, Filtro Entei, Direttamente, Raga, Quasi quasi andiamo a vedere gli shiny, Dai, Vediamo, Gli shiny, Eccoli qua, Allenatori, Eccoli qua, Porca di quella miseriaccia, Oggi c'è andata male, Possiamo dire dal lato, Ombra, Perché Entei, Non l'abbiamo trovato, Raga, Prima si sono aggiunti, Dei nuovi allenatori, Che al primo ride, Cioè al primo ride, Hanno registrato Entei, Ombra, Shiny, Cioè io non lo so, Allenatori, Nianti che daccelo qui sul primario, Ho tentato anche qualche cattura sul mio accanto secondario, Ma Nisbar, Nei prossimi giorni sicuramente continueremo la caccia, Perché andremo fino alla fine, Fino a quando non terminerà l'evento di Entei, Allenatori, Perché cosa rimane? Dovremo andare a controllare, Appena arrivato, Comunque sia, Ma gli shiny, Allenatori, Guardate comunque, Il fantastico, Di Aiga, 96%, Shiny, Origin, Origin, Eccolo qua, Infatti catturato, Non so come, A distanza, Ok, Infatti vedete che con l'utilizzo di un pass remoto, Bellissimo ragazzuoli, Lui veramente shiny 96, Peccato che appunto è un 13 in attacco, Però dai, Abbiamo il 100% suo raga, Fa niente, Fa niente, Poi Wildmer, Così a Milano, Appunto lui ieri a Milano, Joltik XXS addirittura, Guardate qua, Che bellezza raga, Prima ho trovato anche un Snorlax normalissimo XXL raga, Che l'ho registrato anche nel Pokédex, Così almeno abbiamo anche la sua grandezza, Super mega enorme, Lo conosciamo benissimo Snorlax, Ma anche questo Joltik qua, Che non ce l'avevo ancora così piccolo raga, Cioè 0,05, Ma che minuscolo, Veramente minuscolo, Attenzione a non schiacciarlo, Perché magari non si vede, Onyx qua, Da dove l'avevo trovato? No, Dalla Roma Avventura, Che ormai raga, Roma Avventura mi esce sempre, Onyx shiny, Ma che cacchio è? Ma allora vediamo gli Entei, 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 Andiamo sotto ombra, No, Che ombra, Facciamo Entei, Entei, Eccolo qua, Abbiamo effettuato, No, Io farei raga così, Dai, Facciamo così almeno, Vediamo quanti ne abbiamo fatti oggi, Età 0, 7, 7 raid di Entei, Ombra, Eccoli qua raga, 19,25, 19,46, Sicuramente questo qua, Il più forte, XXS, Ma porca miseria raga, Ma che cacchio è? Io trovo solamente i Pokémon, Stramini lì, Che neanche si vedono, Ancora un po', XXS quindi, Il migliore, Eccolo qua, 15, In attacco, Quindi da un lato ci va bene, Raga ma tanto, Non ci fermiamo qui, Andremo ancora avantissimo, Con i Raid di Entei, Vi mostro semmai, Uno per uno, Eccoli qua, Allenatori, Cioè ultimo oramai che abbiamo fatto, Verso il primissimo, Tutti scarsi però, Porca miseria, Infatti eccolo qua, L'XXS raga, 19,25, Ed è il primo, Ammazza, E allora, Bomberoni, Direi che è arrivato il momento, Per riscattare la nostra offerta, O dovrei dire, Il codice promozionale, Perché avete visto, Allenatori ripeto il procedimento, Praticamente andate sul sito Viola, Sulla live di Pokemon, Che stanno appunto effettuando, Questi campionati a Londra, Comunque se avete visto, Che c'è tutto scritto, Sincronizzate l'account del sito Viola, Con l'account di Pokemon Go, Vi guardate 30 minuti di live, Ma vedete che poi la barra va su a 100%, E una volta appunto, Che al 100 potete riscattare l'offerta, Che andiamo a farlo proprio adesso, Infatti come vedete, Allenatori sono qua, Sul sito ufficiale di Pokemon Go, Praticamente dovete andare in alto a destra, E raga in alto a destra, Ecco qua, Fate l'account, Chiaramente anche qui l'accesso, E bisogna andare su riscatto di offerte, Perché chiaramente non stiamo shoppando, Allenatori, Andiamo su riscatta l'offerta, Ed ecco qua infatti, Che ci richiede di inserire il codice offerta, Quindi quindi vediamo se l'ho ancora copiato, Spero di sì raga, Incolla, Eccolo qui, Eccolo qui infatti, Ho avuto un attimino di difficoltà raga, Non sapevo se l'avevo copiato o cosa, Incollato, Eccolo qua il mio codicino, Che dovrebbe essere, Allenatori, Confermatemi in caso, Ma dovrebbe essere così, Un codice praticamente singolo, Per capirci usa i getta, Insomma voi non potete utilizzare questo stesso codice, Che sto utilizzando io, Allenatori, Quindi applica, Vediamo, Vediamo, Hai riscattato questa offerta, Dai un'occhiata allo store online, Cos'è successo, Lì cosa è successo, Non lo so come lo store online, Non penso che ci sbatte qua qualcosa, No, Immagino che adesso dobbiamo entrare in game, E infatti la notifica di Pokemon Go, Eccola qui, Complimenti, Hai riscattato un'offerta online, Clicca su ok, Per scoprire che cosa si tratta, Quindi vediamo subito, Allenatori, Congratulazioni, Eccola, Hai riscattato l'offerta online, Ma con il codice l'avete visto, Quindi non ci dà più niente, Medaglie, Non lo so, Porco miseria, Come mai ha despaunato quel, Quel Wimpod raga, Parra, Che pacco, Allora andiamo qua, Perché chiaramente qui la missioncina, Dovrebbe essere, Sotto i veicoli, Eccola qui, Eccola qui raga, Campione degli internazionali latinoamericani, Pokemon 2024, Cattura due specie diverse di Pokemon, Quattro specie di, Ok, Fino per arrivare a 12 specie diverse di Pokemon, Catturate, Poi abbiamo un incontro con ogni raga, Missioncina, Ogni step, Sotto 50 caramelle, Meditite, Come mai di Meditite, 10.000 polveri di stella, E un MT, Cos'è caricato, Veloce lì, Non lo so raga, Molto bene, 8 giorni qui dal momento in cui l'ho presa io raga, Ma il primo weekend appunto di aprile, Spero che siete riusciti a riscattarla, Anche voi, Ho visto che dal momento raga, Che la andiamo a riscattare, Praticamente che otteniamo il codice, Senza inserirlo ancora all'interno del game, Abbiamo all'incirca 7 giorni appunto, Per riscattare l'offerta dentro il game, Praticamente andare sul sito ufficiale, Come vi ho fatto vedere, Bomberoni avete effettuato qualche ride ombra di Entei, Magari avete già sculato con il cromatico, E soprattutto ditemi se siete riusciti a riscattare l'offerta, Sul sito viola dei campionati mondiali, Mondiali latinoamericani, Come abbiamo visto il titolo della missione, E per oggi allenatori da GamerGio, È veramente tutto, Mi raccomando iscrivetevi al canale, Per rimanere sempre aggiornati, E sui video raga vi è piaciuto e vi è stato utile, Vi invito a lasciare un bellissimo like, GamerGio vi saluta e ci vediamo alla prossima, Ciao Bombers!